Oggi canta con noi, per la prima volta, proprio Alessandra. Dove sei? Con noi oggi canta, diciamo, al primo concerto vero, ufficiale, Paola. Questo è il nostro miracolo, ancora dopo 25 anni avere qualcuno che sceglie di dedicare il proprio tempo a noi e quindi anche a voi e a tutte le associazioni che deve incontrare.